Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, adesso è ufficiale, Joker 2 si farà, la fonte che ha diffuso questa notizia è veramente molto molto attendibile da quello che ho capito, quindi è praticamente ufficiale. Avremo il secondo capitolo di Joker, quindi avremo Joker 2. Ora, moltissime persone sicuramente non saranno contenti di questa notizia perché so già che alcuni lo ritenevano un capolavoro e quindi sicuramente tanti avranno paura che ciò che si è fatto nel primo film potrebbe andare in frantumi con questo sequel che arriverà fra un po' di anni al cinema. Sequel che io avevo già detto nella recensione, mi sembra uno spoiler di Joker per l'appunto, se non l'avete vista andatela a vedere, se vi va, che secondo me ci sarebbe stato e inoltre che siccome questo film era un film fatto veramente molto molto bene da diversi punti di vista, sia la fotografia, la sceneggiatura, almeno per quanto mi riguarda, io dissi nel video per l'appunto della recensione, non spoiler, me lo ricordo era in macchina di notte, che secondo me da lì in avanti avrebbero fatto diversi film con storie di origini dove andavano a narrare le origini proprio di qualche personaggio, di altri villain della DC come per esempio Penguin eccetera eccetera. E infatti è arrivata proprio questa notizia, oltre al sequel di Joker, che Todd Phillips, ovvero il regista del primo capitolo di Joker, oltre a tornare sia lui che Joaquin Phoenix nel sequel di Joker, in Joker 2, sembrerebbe, ripeto, sembrerebbe che Todd Phillips abbia chiesto alla Warner Bros. di creare altri film stile Joker con ovviamente altri personaggi principali per narrare le storie di origini, che ne so, di un enigmista, di un pinguino per l'appunto, si parlava di un film di due facce e addirittura sembrerebbe che si voglia andare a parare su Lex Luthor, su un film con le origini, sulle origini di Lex Luthor, che è un villain che credo tutti voi conoscete, quindi non c'è null'altro da dire, quindi sembrerebbe essere interessante questa cosa e, ripeto, io non so che cosa aspettarmi da questo, diciamo, questo possibile sequel perché il primo a me è piaciuto ma era quasi inevitabile che non ci sarebbe stato un sequel di questo film perché, comunque sia, leggevo un po' di giorni fa che è diventato il film in tutto il mondo, il film vietato ai minori di 14 anni ad aver incassato di più nella storia del cinema ha superato addirittura un certo film Il Cavaliero Scuro, cioè che secondo me è uno dei cinecomic più belli mai realizzati non solo a livello di sì ma proprio in generale e aveva anche superato Deadpool 2, mi sembra, a livello di incassi stiamo parlando, non di bellezza del film quindi era inevitabile, ha raggiunto e ha superato anche il miliardo di botteghino agli incassi quindi secondo me era praticamente impossibile non realizzare un sequel quindi staremo a vedere io, diciamo, sono contento ma in parte perché questo film poteva essere benissimo concluso così con un film singolo e staremo a vedere se l'idea del sequel sarà una cosa buona oppure meno se sarà fatto solamente per guadagnare come sta guadagnando e come ha guadagnato il primo film o seppure avranno veramente qualcosa da narrare in questo secondo capitolo che ha detta di Joaquin Phoenix e di Todd Phillips, ovvero il protagonista che ha interpretato Arthur e per l'appunto il regista loro avevano detto diversi mesi fa che c'erano molte cose da raccontare ancora quindi staremo a vedere se avrà senso questo sequel oppure no detto ciò voi fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate e inoltre vi ricordo che questa sera ci sarà la live qui sul mio canale YouTube e se volete per l'appunto partecipare siete ovviamente invitati a passare due ore così per guardare Iron Man su Italia 1 che inizierà alle 21.20 circa quindi la live inizierà verso le 21 e inoltre mi viene da pensare che siccome è stato annunciato questo sequel tutte le teorie che andavano a dire che Arthur si stava inventando tutto che tutto il film era un'illusione di Arthur che tutto il film erano solamente delle cose che stava sognando Arthur beh mi verrebbe da dire in questo caso che erano tutte cavolate ok teorie incavolate che non hanno poi rispecchiato la realtà perché se ci sarà un sequel non credo che queste teorie avevano senso di esistere ecco prima sì ma adesso adesso no almeno non credo comunque sì fatemi sapere la vostra e per chi vuole ci vediamo questa sera in live verso le 21 circa per vedere insieme Iron Man il film da dove è iniziato tutto il Marvel Cinematic Universe detto ciò niente ci vediamo dopo per chi vuole e per chi non vuole ci vediamo in altri video ciao a tutti ciao a tutti